ciao a tutti ragazzi io sono cinese e voglio invitarvi sul mio canale twitch o cinese trattino basso tv per passare qualche oretta insieme divertirci insieme in compagnia di radio free hop con il nostro carissimo gigio e mi raccomando venite a trovarci perché ci saranno tanti momenti divertenti più siamo meglio è più ci divertiamo quindi mi raccomando non mancate sul mio canale twitch per sapere quando sono in live potete seguire le mie storie anzi dovete seguire le mie storie qui su instagram e vi informerò tramite quelle appunto per le live bene vi ringrazio mi raccomando vi aspetto sul mio canale twitch non mancate o cinese tv ciao